Siamo con la presentazione della nostra seconda ospite, qui ci porterà a Venezia, faremo un piccolo viaggio virtuale nella laguna di Venezia, abbiamo qui con noi la professoressa Sonia Silvestri, professoressa e ricercatrice dell'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, ma è anche una professoressa presso l'Università Duke degli States e anche della Venice International University. La professoressa ci presenterà a vivere circondati dalla biodiversità e non saperlo. Prego professoressa. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Ilaria, mi sentite? Sì, la sentiamo. Come dicevo con il suo collega, ha a disposizione 20 minuti, dal diciottesimo le facciamo sentire una campanella per farle capire che sta scadendo il tempo, si diverta e ci illumini. Sì, assolutamente, anzi mi metto anche io un timer che così sono più, cercherò di guardare l'ora e avrò bisogno per le prime due o tre slide della collaborazione tua ed Ilaria, posso? Siamo qua per questo. Benissimo, allora condivido, devo condivido lo screen, credo che vado bene, eccoci qua e questa è la mia presentazione. Allora intanto grazie mille dell'invito e io parlerò naturalmente di cose più affini alle questioni di biodiversità ed ambiente anche a causa, diciamo, del mio background e volevo appunto la vostra collaborazione perché ho delle domande. Dove ci troviamo in questa slide? Lilli, tu sei più brava di me. Stavo guardando il grattacielo. Oltreoceano, oltreoceano. Oltreoceano. Mi viene a pensare San Francisco. E questo è New York. Ah, è New York. La prossima è più facile, qui dove ci troviamo? Siamo a Venezia. Evidente, mi sembra. E qui? È un paese dell'arabo? No, 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 è sud-est asiatico, mi sa, tipo, Taipei, no, non Taipei. Seoul ci consigliano dalla chat, ragazzi, partecipate. Ah, Seoul, sì. No, 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 Cina. 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 Shanghai. Shanghai. Questo è Shanghai. Questo è Shanghai. E adesso ho un'altra domanda per voi. Qui dove siamo? Allora, qui siamo in una zona, quelli sono dei cavalieri d'Italia, per caso. Eh, probabilmente, non lo so, non sono cavalieri d'Italia, sinceramente. Ma dove siamo? In una delle tre città precedenti. Ah, qui possiamo svelarvi. Allora, verrebbe da pensare più verso Venezia. No, qui siamo a Shanghai. Ah. E sembra incredibile, però, proprio accanto a Shanghai, che si trova su un estuario, su un delta, c'è uno dei parchi cinesi più grandi del mondo, dove svernano e migrano più di un milione di uccelli ogni anno, e di 17 ordini, 50 famiglie e 288 specie. Quindi è una cosa un po' particolare, ma volevo farvi vedere dov'è questo parco. Allora, questo è Shanghai, e questo è il parco. Vedete, questo è il delta. Questa è un'immagine che ho preso semplicemente da Google. Questa è la bocca del Yonsei River. E mi piaceva attirare la vostra attenzione su questa frase che ho trovato in un magazine online, che dice, it's an unexpected location for a nature park. E mi piaceva attirare la vostra attenzione perché in effetti non è che il parco e la biodiversità che c'è in questa zona è unexpected. È unexpected, se volete, che ci sia Shanghai lì, nel senso che è proprio la biodiversità tipica di una zona come questa, di una zona di estuario, di un delta, c'era ben prima che lì si sviluppasse Shanghai. E soprattutto Shanghai, quella di oggi, che è una città enorme rispetto a quella che c'era una volta, storica. Ma continuiamo il nostro quiz. E qui, secondo voi, dove siamo? Vedete fenicotteri rosa, un cormorano che sta mangiando un pesce. Queste mi sembra così. Un airone grigio. Mi sembrano animali o comunque uccelli che io vedo anche in Italia, quindi forse qua siamo nel contesto italiano. Sì, anche lì nell'immagine dei fenicotteri. È proprio così. Qui siamo in Laguna di Venezia e forse non tutti sanno che in Laguna di Venezia ci sono 150 specie d'uccelli e di cui alcuni con pericolo di estinzione. E qui, per concludere, visto che avevo parlato anche di New York, qui siamo a pochi chilometri da proprio il centro di New York. Questa si chiama Jamaica Bay Wildlife Refuge, che è sempre una zona umida dove ci sono ben 330 specie d'uccelli. Ecco, quindi io volevo fare questa specie di quiz iniziale perché molto spesso non ci rendiamo conto che le città dove viviamo in realtà, soprattutto quando si trovano in zone di estuario, pensate che delle 32 città più grandi del mondo, ben 22 si trovano su estuari. Quindi è veramente incredibile questo legame tra uomo e estuario. Estuario perché gli estuari hanno sempre dato moltissimi servizi ecosistemici, prima di tutto la pesca, il cibo, il rifugio da eventi estremi, va bene? E quindi queste situazioni sono comunissime in giro in tutto il mondo, anche in città enormi come Shanghai. Eppure uno non pensa mai ad andare a Shanghai per visitare la riserva di cui abbiamo visto prima le fotografie. E un altro esempio tipico, classico, e sarà anche perché il mio primo sito di studio, il sito di cui sono innamorata, anche la laguna di Venezia, molto spesso si prende il treno, si va in automobile fino a Piazzale Roma e si va a visitare Venezia. Però pochissimi sanno che Venezia è al centro della laguna più grande del Mediterraneo, pensate che è 550 chilometri quadrati. La superficie delle barene, adesso andremo a vedere che cos'è una barena, è di 37 chilometri quadrati. Sono proprio i posti dove nidificano tutti questi uccelli. La profondità media della laguna è di circa un metro e mezzo, quindi vorrei dire che sulla gran parte della laguna potreste camminare tranquillamente con degli stivaloni impermeabili un po' lunghi e poi naturalmente Venezia è collegata al mare dal ciclo mareale che quindi porta continuamente vita all'interno della laguna. Quindi magari può sembrare sporca l'acqua della laguna quando uno fa un giro per i canali di Venezia. In realtà come in tutte le zone umide c'è molta sostanza organica, c'è molta clorofilla in sospensione per cui sembra verde ma in realtà è pienissima di vita. Anzi la qualità dell'acqua devo dire che soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni è migliorata moltissimo. Venezia forse è famosa soprattutto per il centro storico, naturalmente per la città di Chioggia magari, oppure per i Lidi dove moltissimi vanno in estate. Naturalmente dal punto di vista economico e commerciale è famosa anche per le valli da pesca dove si allevano moltissimi dei pesci che poi sono venduti al mercato ittico di Chioggia e è purtroppo famosa anche per l'enorme zona industriale che è stata creata negli anni 50, proprio vicinissima a Venezia, che è quel circoletto rosso che vedete e che ha contribuito all'inquinamento di molti sedimenti del fondale della laguna. La laguna di Venezia fa parte della convenzione di Ramsar, dei siti, delle zone umide di interesse internazionale già dal 1998 ma una cosa che forse nessuno sa è che la motivazione proprio principale per la quale è stata inclusa nelle zone Ramsar è la biodiversità e la biodiversità proprio della vifauna, wintering migrant and breeding water birds. Era questa la motivazione perché già all'epoca c'erano 130.000 uccelli che periodicamente almeno stavano in laguna di Venezia con ben otto specie che avevano più di un per cento della loro popolazione vivente nella laguna di Venezia con due specie in particolare in pericolo di estinzione e questo è un segno chiaramente della biodiversità biologica ma andiamo a vedere la distribuzione perché magari uno non sa, uno dice va bene ma queste specie chissà dove si trovano, chissà dove vivono. Ecco se andate a vedere l'Atlante della laguna online troverete proprio dove c'è nidificazione certa e vedete c'è nidificazione certa di moltissime di queste specie anche proprio nella città storica. Magari il turista non se ne accorge però di fatto è circondato non solo dai gabbiani, dai piccioni come magari si nota già andando a fare una passeggiata in piazza San Marco ma da ironi, da garzette, da uccelli bellissimi, da tuffetti, uccelli bellissimi che pescano, vivono completano anche il loro intero ciclo vitale in laguna e in più ci sono tantissime specie che sono svernanti in laguna di Venezia e vivono soprattutto come vedete nella zona nord della laguna che è quella più naturale. Ma la convenzione Ramsar parla anche di un'altra cosa, di un altro tipo di diversità quella che si chiama diversità geomorfologica perché se voi fate un giro in barca in laguna di Venezia vi raccorgerete che non è una coperta semplicemente d'acqua. Magari uno pensa da Venezia guardando verso la laguna, vede circondata d'acqua, vede la città circondata d'acqua diciamo vabbè c'è solo acqua, no non è così. Ci sono le barene che sono delle zone intertidali cioè sono delle zone in cui, che vengono invase dall'acqua quando c'è la marea alta come vedete in questo sketch qui, vedete quando c'è l'alta marea vengono sommersi d'acqua ma poi quando la marea si abbassa e a Venezia ci sono due maree al giorno, due alte e due basse maree ogni 24 ore. Poi ci sono le zone invece che sono sempre sommerse e ci sono naturalmente i canali tutti ambienti dove si sviluppa una vegetazione caratteristica quindi vedete per esempio in queste due figure della vegetazione caratteristica alofila cioè che è in grado di vivere anche se l'acqua è salata. Vedete che ci sono degli ambienti che si chiamano pianeti dali o tidal sets dove per esempio se andate a vedere vi sembra che sia fango in realtà c'è un pellicola di microfitobentos che copre completamente queste superfici e che fa un sacco di fotosintesi clorofilliana per esempio se uno non pensa e poi ci sono naturalmente i ghebi e i canali che caratterizzano questa morfologia così particolare delle barene che sono questi piccoli percorsi che l'acqua fa all'interno della laguna di Venezia. Poi ci sono delle praterie di fanerogame, magari pochi sono familiari con queste praterie di fanerogame andate in spiaggia, a volte vedete sulla spiaggia della vegetazione spiaggiata pensate che siano anche, beh non sono anche, sono pezzi, sono frammenti di piante superiori che si chiamano fanerogame e che vivono infatti in mare, ne troviamo tantissime anche in Sardegna ma vivono anche all'interno della laguna di Venezia. E quali servizi ecosistemici ci danno tutti questi ambienti? Beh, favoriscono il ricambio idrico, trattengono i nutrienti, trattengono gli inquinanti, purificano l'acqua, aumentano naturalmente la biodiversità, sostengono la pesca che è uno dei fattori, dei servizi ecosistemici più importanti per una comunità umana che vive su una zona costiera, in un estuario. Proteggono dall'erosione, le isole stesse, proteggono dagli eventi meteorologici intensi e persino quegli estremi e poi fanno una cosa fondamentale soprattutto oggi per contrastare, per mitigare i cambiamenti climatici accumulano carbonio, cioè grazie alla fotosintesi producono biomassa quindi per farlo accumulano CO2 dall'atmosfera ma poi questa CO2 non ritorna nel ciclo perché viene stoccata nel suolo e quindi siccome in questi ambienti che sono tipicamente umidi e i microorganismi sono molto lenti nella degradazione della sostanza organica il tempo che ci mettono per rimandare questo CO2 in atmosfera è veramente di migliaia di anni quindi sono come una pompa di anidride carbonica che viene continuamente stoccata nel sottosuolo quindi sequestrano più questi ambienti che si chiamano ambienti costieri di carbonio blu delle foreste tropicali quindi è veramente incredibile quanto queste zone umide una zona umida come la laguna di Venezia siano così speciali per finire il discorso sulle barene e sempre legato alla biodiversità vi faccio vedere una slide non so se qualcuno di voi è familiare con quella che si chiama Entropia di Shannon comunque sia è diciamo un valore che ci dice quanta biodiversità c'è in un certo ambiente e anche all'interno di una barena che a voi potrebbe sembrare piatta in realtà c'è una variazione molto importante di biodiversità proprio perché in zone diverse abbiamo specie diverse quindi oltre alla biodiversità di cosa ho parlato dei vari uccelli qui stiamo parlando di biodiversità delle alofite che crescono sulle balene ma ritornando alla città volevo farvi vedere una ricostruzione che ha fatto un collega un professore del UOV di Venezia il professor Janigen che ha cercato di capire come si è formata Venezia e voi magari non ci avete mai pensato uno magari pensa che Venezia sia nata sopra delle isole perché noi passiamo da una calle a un'altra e passiamo sopra i canali con dei ponti e quindi uno diceva bene saranno state delle isolette come quella che vedete qui in laguna con dei pescatori di una volta e dopo quando sono arrivati gli unni le popolazioni della terraferma hanno iniziato a colonizzare sempre di più queste isolette in realtà pare che la prima conformazione di Venezia sia quella che vedete in questa slide qui il professor Janigen ha appunto ricostruito andando a fare tutta una serie di misure in giro per Venezia che solo alcune piccole zone di Venezia di fatto erano delle isole le altre erano delle barene e l'uomo lentamente negli anni vedete qui stiamo parlando tra il settecento e l'ottocento novecento dopo Cristo e qui abbiamo che lentamente la comunità che si era insediata su queste isolette ha bonificato diciamo tutte le barene che gli stavano attorno trovando, riempiendo e in particolare con dei pali dei tronchi molto lunghi e facendo le palafitte quelle che noi forse avete visto anche in alcuni documentari sulle quali si dice che sono costruiti i palazzi veneziani beh è proprio così Venezia non è altro che una terra che è stata rubata alla laguna che è stata portata via la laguna grazie appunto a queste tecniche che l'uomo ha messo in campo per colonizzare sempre di più queste barene questi bassi fondi che circondavano le pochissime isole che c'erano all'inizio poi naturalmente è stato costruito il ponte è stata costruita la stazione e oggi Venezia è quello che sappiamo quello che vediamo una città incredibile che attira una quantità enorme di turisti ogni anno con un valore storico e artistico enorme e naturalmente con tutte le conseguenze del caso qui vediamo una delle grandi navi che entrano durante i mesi estivi a Venezia portando, vomitando migliaia di turisti ogni giorno e allora curiosamente ho detto beh, ero curiosa di avere un po' di numeri da dirvi oggi e ho trovato l'annuario del turismo che ogni anno pubblica il Comune di Venezia questo per l'anno 2019 quindi prima del Covid e mi sono messa a fare un po' di ricerche dei termini di alcuni nomi dentro all'annuario del turismo perché volevo capire quanti turisti di fatto usufruivano usufruiscono insomma Covid permettendo della laguna rispetto alla città allora troviamo che la parola le parole San Marco sono ricorrenti per 44 volte dentro la parola museo musei 217 volte chiesa chiese 50 volte no? Poi invece se cerco la parola barena o barene non c'è la parola laguna avviene due volte uccello uccelli ornitologia qualsiasi zero volte persino bicicletta è nominata solo due volte allora sono andata a vedere un attimo anche i numeri perché c'è appunto una sessione che insomma ha a che fare proprio con che cosa vanno a visitare i turisti e ho trovato che grazie a questa Venezia unica che non è altro che il sito ufficiale del comune dove si fanno tutte le prenotazioni vediamo che il numero di visitatori nei musei in tutti i luoghi nelle chiese in tutti i luoghi che si devono prenotare a Venezia sono circa 960 mila ogni anno e se non altro nel 2019 mentre il numero di visitatori legati a degli ecotour che portano in giro ecco vedete il mio timer sono poco più di 10 mila se poi andate a vedere l'incasso di questi di questi fornitori beh abbiamo 16 quasi 16 milioni di euro per tutte le altre attività di visita rispetto a neanche 97 mila euro di coloro che forniscono ecotour e quindi velocemente arrivo alla fine dei pensieri diciamo dei ragionamenti finali su questa mia su questo mio intervento a Venezia ma in moltissime città del mondo c'è quasi un comportamento schizofrenico oserei dire una separazione tra la città e l'ambiente non perché l'ambiente sia di poco valore abbiamo visto anche solo per la laguna di Venezia quanta biodiversità ci sia in laguna quanto sia importante l'ambiente lagunare anche per i servizi ecosistemici che fornisce eppure non si riesce ad integrare l'ambiente che circonda queste città e ne abbiamo viste tre di fondamentale importanza a livello globale con la città stessa non si riescono a integrare città e ambiente questa separazione è ancora più evidente secondo me in città come Venezia dove probabilmente il valore storico architettonico e culturale sembrano veramente sproporzionati rispetto all'ambiente anche se il valore dell'ambiente che circonda Venezia è grandissimo quindi è proprio vero che bisogna cambiare prospettiva lo dobbiamo fare lo dobbiamo fare perché se no non ci sarà uno sviluppo sostenibile per il futuro di queste città e soprattutto della mia amata Venezia ecco allora grazie mille spero di non aver preso troppo del vostro tempo assolutamente grazie mille professoressa un altro un altro un altro super perfetto proprio quello che cercavamo e ha evidenziato un po' quali sono i grandissimi pregi dell'ambiente le grandi funzioni ma anche come spesso noi lo trascuriamo perché non li vediamo perché pensiamo che ci sia un velo d'acqua e finisce lì e invece c'è tutto un mondo lì dietro anche dietro dei grattacieli bellissimo vedere New York o Shanghai da un'altra prospettiva come non ce lo immaginavamo davvero bellissimo poi abbiamo anche io e Lillard abbiamo una scarsa capacità di geografia questa volta ho fatto pena io che di solito me ne intendo un po' di più e niente adesso ragazzi se volete intervenire ci sono pochi minuti per farlo intanto che siamo in compagnia con la professoressa non so se Lillard ha qualche altro commento io ce n'è uno che volevo approfittarne ha detto una cosa molto importante il fatto della capacità dell'ecosistema lagunoso di poter sequestrare la CO2 unita a tutti gli altri servizi ecosistemici ritorna molto il tema che l'anno scorso portavamo al Biodiversity Day cioè le soluzioni sono nella natura ancora una volta credo che si chiuda il ciclo lo volevo sottolineare sottolineo anche un'altra cosa a chi ci ascolta abbiamo guardato un ambiente dove tipicamente gli uccelli la fanno da padrone sono degli animali molto importanti in questi ambienti che vanno preservati parleremo gli uccelli durante il festival durante il percorso delle foreste non vi anticipo niente ma vi dico soltanto che il nostro ospite speciale legato al tema degli uccelli è un classe 2007 non dico altro teniamo aggiornati sulle nostre pagine vedrete presto delle locandine e il filone si terrà ad aprile e intanto vedo infatti collegato il prossimo speaker salve professoressa se non ci sono altre domande dal lato studenti noi volevamo solo fare un saluto per chi ha seguito il suo corso l'anno scorso con Dinelli e gli altri professori quindi niente è tutto va è che la presentazione è stata molto bella grazie grazie albito prof salve buonasera ciao molto bello vedere anche questa contentezza nel viso dei nostri studenti è molto bello bene allora Ila direi che su Facebook anche non vedo no non vedo commenti su Facebook andrei avanti allora esatto presentiamo l'ultima nostra speaker grazie ancora